Un eccellente risultato in tempi difficili. Così Vladimir Putin commenta l'esito delle elezioni per il rinnovamento della Duma, il Parlamento russo. Russia Unita, il partito del premier e del presidente Medved, è riuscito a mantenere la maggioranza assoluta nonostante il crollo nelle preferenze rispetto alle precedenti consultazioni. 49,5% dei consensi e 238 seggi contro i 315 di due anni fa. Putin non fa drammi e si mostra soddisfatto davanti alle telecamere, ma il suo partito non sarà più in grado di modificare da solo la Costituzione russa e dovrà necessariamente cercare accordi con gli altri partiti. Forte delusione tra i sostenitori del premier, che sarà comunque in grado di governare autonomamente. Oltre a Russia Unita, entrano in Parlamento il partito comunista, secondo con il 20% delle preferenze, i centristi di Russia Giusta e i liberal democratici di Vladimir Zirinovsky, esponente dell'estrema destra. Fuori dai seggi, gli oppositori di Putin rovesciano nelle strade la rabbia ritenendo non regolari le consultazioni. La mobilitazione dell'esercito e le numerose misure di sicurezza predisposte dalle autorità russe non hanno fermato i tanti manifestanti scesi in piazza per contestare la validità del voto e denunciare brogli e pressioni. Si parla di un totale di oltre 350 fermi, la maggior parte dei quali a Mosca e a San Pietroburgo.